Scende la notte su Torino e si accende il Music Hall. Riapriamo questo meraviglioso teatro che era rimasto chiuso per quasi 20 anni con un nuovo nome, il Le Music Hall, un teatro dedicato all'intrattenimento leggero, alla varietà, ma non alla varietà solo di spettacoli, alla varietà di scelte. Ci saranno spettacoli musicali, di teatro, visivi, clunerie, tutto ciò che appartiene a quel genere di teatro molto divertente e che piace soprattutto al grande pubblico, che vogliamo recuperare. Voglia di divertirsi, ma anche voglia di creare dei progetti. Infatti, non a caso, siamo qui nell'Istituto Murialdo, dove i giovani vengono aiutati a ritrovare o a trovare un mestiere. E qui, infatti, sarà la fucina non solo di artisti che si esibiranno su questo palcoscenico, attori, ballerini, cantanti, eccetera, eccetera, ma anche di tecnici di teatro, di persone che impareranno un mestiere, proprio grazie a questo luogo. È la possibilità di mettere insieme la nostra tradizione educativa, formativa, anche per i ragazzi più svantaggiati, con un grande artista di caratura internazionale, per permettere di proseguire e di attivare anche nuovi percorsi educativi e formativi, dando anche dell'opportunità di lavoro ad alcuni dei nostri ragazzi. Le Music Hall, per noi, Giuseppi del Murialdo, ha a che fare soprattutto con questi valori. Oggi noi pensiamo attraverso un'idea che abbiamo chiamato rinascimenti culturali, di aggregare attorno alle Music Hall e non solo, anche ad altri luoghi, persone, enti, luoghi che favoriscano un nuovo approccio alla cultura. Il logo di questo teatro è appunto una lampadina, come le 300 lampadine che illuminano questa sala, che rappresentano appunto l'energia. A Natale abbiamo preparato un po' una sorpresa, cioè la grande varietà, il grande varietà natalizio diretto da me, in cui veramente forse si respirerà un po' l'aria parigina che già permea da questa architettura, da questa ristrutturazione. Sarà uno spettacolo vario, con molti artisti, giovani, con scenografie mutevoli e sorprendenti e soprattutto sarà uno spettacolo frizzante che rappresenta, in un certo senso, la grande varietà di opportunità artistiche di questo luogo. Ladies and gentlemen, benvenuti al Music Hall! Si bagno!